Ciao a tutti, oggi è mercoledì 13 luglio 2023, volevo farvi vedere un po' la situazione dell'orto partendo dalle piantine, qui abbiamo le tre siarrette con le piantine dell'orto invernale, non so se si riusciranno a vedere, comunque qua ci sono cavoli, qui abbiamo un po' di basilico che utilizzeremo per fare la salsa, i porri, poi c'è dell'alto basilico, i finocchi e poi c'è del sedano rapa. E qui abbiamo altri cavoli, diverse semine che abbiamo fatto in diverse volte e altri finocchi e nient'altro qua, sono tutte piantine che adesso a fine luglio, inizio d'agosto andremo a mettere a dimora. Qui poi abbiamo girasoli che ci ha mandato Diego Alessandro, ce n'è una fila fino in fondo, poi qui abbiamo messo dei fagiolini, mangia tutto, ma li abbiamo già raccolti in buona parte, ormai ci sono seccati e qui ci sono degli altri fagioli che ci hanno dato, una parte ce li ha dati Diego Alessandro e una parte vengono da uno scambio semi qui di Borgotaro, abbiamo messo questa rete qua un po' sbilenca di plastica e li abbiamo fatti arrampicare. Poi qui abbiamo i pomodori, sono le varietà che ci ha portato il buon Andrea della Valtellina, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo perché ha subito una grandinata terribile che gli ha distrutto tutto e quando l'ho vista mi piangeva il cuore veramente. Forza Andrea non mollare che vedrai che i risultati pian piano arrivano. E questi qua sono i pomodori che ci ha portato lui, le piantine che ha fatto lui direttamente ce li ha portate qui e quando è venuto a trovarci. Quello, questo è il datterino Diego che aveva dato Diego a Andrea, poi se è mezzo ibridato non è più un datterino. Poi qui abbiamo il Delice d'Or che sono quasi maturi, un po' li abbiamo già raccolto uno, sto già tenendo il seme e questo qui è un altro pomodoro, che adesso non ricordo mai il nome, è il gargamel, che ci ha portato il buon Andrea. Ne abbiamo diverse piantine, questo ce ne sono già, quindi ce ne ero uno all'inizio, due, tre. Questo qua credo che sia un datterino di Diego, un datterino di Diego, questo qua non lo so, questo qua è un Delice d'Or, Delice d'Or, Delice d'Or, questo qua credo che sia un datterino, ma ce ne erano già dei cimici, guardate quante, guardate quante cimici, ci sono pieni, veramente, cominciamo ad andare molto male, quando ci sono tanti cimici così, perché dopo li cominciano a rovinare tutti, vedete, qua, guardate, c'è veramente tanti cimici ci sono, purtroppo è una piega che ci sono, e poi si buttano in terra, cioè uno ci passa vicino, loro si lasciano cadere, e poi cominciano tutte, vabbè, a marcire, poi questi qua hanno le morale che ci hanno sbagliati a metà, non le ho stirpate perché non ce l'avevo voglia, ma comunque dovremmo stirpare tutte, poi qui abbiamo pomodori che ci hanno dato a Borgotaro, lo scambio semi, pieni di cimici anche questo, guardate che lavoro, si fanno cadere, dobbiamo sempre andarsi con la mano sotto, dopo così si buttano in terra e li schiacciamo, quindi questi qua sono tutti di Borgotaro, 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 poi qui abbiamo melanzane, peperoni, che ci hanno fatto le piantine, peperoni, peperoni, qualcosa c'è su, sono un po' secchi anche se li annaffiamo, ma con questo caldo è problematica, qua ci sono quelli di Borgotaro, 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 sono due varietà, ci sono queste qua che sono un po' più grandi, che sono questi, e poi ci sono quelli di tipo Perino, e poi ci sono quelli che ci ha portato il buon Filippo, che sono questa varietà qua, ci sono i cimici sopra, ci andiamo sotto così non ci fregano, se ci cascano in mano, non ci scappano, se no ci fregano, se no si buttano in terra e ci fregano, questo qua è scappato, questi qua sono sempre quelli di Filippo, e poi qui abbiamo un melone, un moscatello, credo che sia, che ci ha dato Enrico, Bocchi, e poi qui ci sono delle zucche miste, che ci ha mandato Alessandro. Ho provato a ingabbiare qualche fiore per non farlo ebridare, ma tipo questa qua, vediamo, ma non sono tanto bravo, perché quando li vado a chiudere ho visto che spesso la zucca non rimane attaccata, secca, eccetera, quindi devo affinare un po' la tecnica, devo capire bene come fa. Torniamo su, andiamo a vedere le altre parti dell'orto. Allora, di qua invece abbiamo i carciofi, che ormai li abbiamo raccolti, e poi le erbette da seme, che ce ne sono tante. Adesso ne ho già raccolto una parte, l'altra parte le andrò a raccogliere, la Veronica ha lasciato andare in fiore dei carciofi che volevano tenere il seme. Questo qua è il carciofo bianco di Pertoso, in teoria ci sono questi due, basta, e quali altri li abbiamo tolti. Vediamo un po', magari teniamo il seme, da fare delle prove, molto bello. Qui abbiamo una fila di mais, ci ha mandato Alessandro e Diego, fino in fondo, tutto il filare, e di fianco abbiamo messo dei fagiolini che abbiamo già raccolto, ma anche qui non abbiamo dato tantissima acqua, e il raccolto è stato abbastanza scadente. Qui invece abbiamo l'aglione, che è pronto, l'aglione della Val di Chiana, che è pronto ad essere raccolto ormai. Perché è secco. Qui abbiamo delle cipolle adorate di Parma, che avevo seminato io l'anno scorso, poi ho tenuto un po' di bulbi, li ho messi giù. E poi ci sono quelle del progetto Sovranità Simentiera, le cipolle da l'ife, che sono queste. Queste qua, che erano i più belli, i bulbi, infatti sono venute molto belle. Stanno fiorendo, cioè sono già fiorite, stanno maturando il seme. Adesso credo che tra una decina di giorni cominciano ad aprirsi, quindi dopo li raccolgo, e teniamo il seme, che una parte lo manderò a Diego, a Alessandro, l'altra parte lo distribuirò, con il nostro progetto Biodiversità Condivisa. Queste qua sono le cipolle che ci avevamo mandato i semi, sempre Diego e Alessandro, per il progetto Sovranità Simentiera. Ce ne sono diverse varietà qui, rosse, bianche, le ho tutte segnate, ne ho fatto la piantina. Queste qua le abbiamo seminate, nelle vaschette ripicchettate e poi col trapiantatore, guardate tutte messe a dimora. Col trapiantatore ce ne sono, boh, ce ne sono, qua c'è della boragine, un po' d'erba, ce ne sono circa 300, adesso stanno maturi. Ce ne sono di rosse, ce ne sono di gialle. e qui c'erano le cipolle, la cipolla rossa toscana, invernale, che avevamo seminato il 15 d'agosto il seme, raccolte e poi dopo abbiamo messo le piantine a ottobre, novembre, col trapiantatore, ma sono quasi andate tutte in semenza, in pratica, visto il caldo, e una buona parte le abbiamo mangiate, un po' sono rimaste qui, terrò il seme diviso e lo terrò per fare le cipolle, per fare le cipollotte in pratica e vediamo se l'anno prossimo, riseminandole, il 15 di 20 d'agosto, se riesci a non farla andare a seme. Questa qua invece è della lattuga mista. Qui c'è la della cima di rapa che è già andata a seme, della lattuga che adesso sta andando a fiore. L'attuga romana e dell'attuga sant'anna. Questa qui è stata tutto l'inverno fuori. Poi l'abbiamo mangiata. Qui invece c'è l'altra parte dell'orto dove ci sono altri pomodori. Questi qua sono quelli di Borgotaro che abbiamo già visto prima. Sono abbastanza belli. Anche questo qua è un'altra tipologia, sempre di quelli di Borgotaro ce n'erano due tipi. E questi qua sono quelli di Filippo. Sono molto belli. Guardate che pomodori. Questi qua sono la selezione che ha fatto lui e sono liberamente bredati. Quindi non ce n'è uno uguale all'altro. Sono tutti dallo stesso seme. Guardate queste, questa è diversa e questo qui è ancora diverso. Adesso metteremo magari i semi delle più buone, più belle per l'anno prossimo. Poi qui abbiamo delle melanzane sempre che abbiamo autoprodotto noi dei semi, li abbiamo acquistati dai sementi l'anno scorso, due anni fa diciamo. E poi abbiamo fatto le piantine noi e le abbiamo nel germinatoio che trovate il video sul canale e poi le abbiamo messe a dimora le piantine. Adesso stiamo raccogliendo le prime melanzane. Mentre i peperoni sempre abbiamo fatto sempre il solito procedimento. Semina a febbraio un germinatoio e poi abbiamo travasato le piantine in vasetto e poi qui questi sono il quadrato d'asti rosso credo che sia. Questi sono abbastanza belli. Ce n'è qualcuno bruciato col caldo però sono sono belli cioè nel senso per parlo standard di peperoni che abbiamo qua che ho io e io e la Veronica sono belli. Poi qua abbiamo messo i citrioli un po' di arbette qua ma giusto per meloni i citrioli un po' per averle più che altro per mantenere il seme di alcune varietà perché sono state messe un po' tardi perché avevo del seme di citriolo non è nato le piantine e poi sono nate queste. Adesso ci trasferiamo nell'altro orto dove dove abbiamo le zucche e le zucchine. Allora qui siamo nella seconda parte dell'orto in un orto qui adiacente qui ci sono i topinambul seminati a inizio aprile credo dai tuboli dell'anno scorso qui ci sono delle carote seminate a macchina è che sono state annaffiate poco c'era un sacco d'erba dopo man mano cerco di tenerle pulite ma non sono bellissime e poi qua c'è tutta la tuga che sta dando seme c'era molta sant'anna nostra poi quella che ci ha mandato Diego Alessandro adesso fra poco cominceremo la raccolta del seme che ce n'è veramente tanto e anche qua poi qua invece c'è in mezzo tutta questa erba qua ci sono le zucche e gli zucchini allora qui praticamente avevo messo delle tame e all'interno delle tame c'è un sacco di semi di questa infestante qui ne è nata un sacco l'ho già tolta diverse volte ma ormai non dà più fastidio perché le piante le piante sono diventate grandi di zucchine ormai si arrangiano poi quando l'annaffio l'annaffio con la gomma quindi non ho non ho problemi qui ci sono diverse varietà di zucche e le trombette le trombette d'albenga che ne sta facendo un'esagerazione e poi ci sono degli zucchini striati adesso guarda se ce n'è qualche una farvi vedere comunque le piante sono belle stanno producendo stanno producendo bene qua ci sono altre trombette rimedio tutto sto marasma qua trombetta qua e poi ci sono guardavo se c'era qualche zucchino da farvi vedere non so se ce n'è ci sono ce n'è qualcosa lì ma sono i classici zucchini striati e poi la ci sono delle zucche e altre robe e qua invece c'è tutta tutte le erbette da costa che stanno andando insieme da raccogliere adesso pian pianino verrò qui a raccoglierle tutte e qua invece se piove la prima volta che piove un po' ci passo con l'altro rotativo e poi ci metterò i cavoli e l'orto l'orto autunno-invernale ci stanno dando soddisfazione quest'anno le trombette dal beng mentre di zucchi qua c'è un delle zucche che ci ha portato Andrea che ho provato a incappucciare ho provato a fecondare manualmente vediamo se riusciamo a legare qualcosa per non farle bridare qua ci sono delle altre zucche e poi ci sono un sacco di zucchine in mezzo a tutta questa erbaccia qua e nient'altro questa è un po' la situazione dell'orto a metà luglio è piovuto molto a maggio e poi dopo si c'è adesso c'è molto secco stiamo cercando di irrigare però c'è tanto caldo e si fa fatica le piante da frutto sono cresciute un sacco vedete però l'orto fa un po' fatica con tutto sto caldo però migliora la situazione vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti